Buongiorno a tutti, benvenuti nel modulo Lina risponde 34 Oggi vi presento la lezione 70, il testo di Ambiati da 80 lezioni Parliamo del libro di cinese moderno Il testo si chiama Chunjie Prima vi leggo il testo tutto intero e poi vi leggo frase per frase con il mio suggerimento di traduzione Comunque la mia traduzione non la metto nei commenti Vi metto nei commenti solo il testo della professoressa E così voi potete fare una vostra traduzione Punjie Punjie è il nostro napso di imparazione Ilöristico 데�a Memphis Il spazio di cui è il nostro progetto di primi Il più importante è il traduzione del nostroenergia Il nostro napso di pensiero di QTSF Il popolo è come l'evoca e il napso di ricorda suchen tempo Il napso è il nostro napso di ricorda di ricorda di scottà di ricorda 高高兴兴的国街 国群街的习俗 很早以前就有了 快到群街的时候 人们把物理物外 打扫得干干净净 准备好国街吃得和用的东西 有孩子的家庭 要给孩子买几件新衣服 要送给他们几件玩具 或者别的礼物 礼物 所以孩子们比大人更喜欢国群街 能穿国群街比城市里热闹 群街那天家家户户门口 都贴上红色的裙帘 物理铁上坏花绿绿的年华 早上人们到各家白年 祝贺新群 祝贺新的一年里生活幸福 国群街 国群街 北方人吃饺子 南方人吃年糕 以前这些东西 很多人只有过年的时候才吃得到 现在已经成了普通的食品了 放鞭炮 放鞭炮也是过群街的一个习俗 群街 前一天的晚上 好多人一夜都不睡 等到十二点的中神一敲过 各家各户就都放起鞭炮来 有的还放起五眼流色的烟花 便爆的烟花 要放好长时间 真是热闹极了 群街期间 城市和农群都 进行各种威尼庆聚活动 表演各种各样的节目 大街上 公园里 空地上 到处使人伤人害 旧的一年过去了 人们都希望新的一年 会给人带来新的东西 现在 Tibet 这有十四年 海军 一旦 英套 一旦 一旦 旦 船 启 鱼 等 대� 诱 尼 超 万 不 完 这 E' una delle più famose feste nella tradizione cinese. Allora, per i cinesi festeggiare la festa di primavera è come per gli italiani festeggiare Natale. In ogni posto ci sono le ferie e anche molti dei negozi vanno chiuse. La gente torna a casa dei propri parenti e tutta la famiglia festeggia insieme felice e contenta. L'usanza della festa di primavera ha origini lontane del festeggiamento della festa di primavera. Quando arriva la festa di primavera, le persone si mettono a pulire le case dentro e fuori e a preparare le cose da mangiare e da usare. Tutto quello che serve per la festa Nelle case dove ci sono bambini si devono comprare nuovi abiti per loro, giocattoli oppure altri regali. Ok. 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 Allora Dice che prima questi cibi si mangiavano e preparavano soltanto per il giorno della festa ma oggi è diventato già cibo ordinario. Ok. Te lo puoi comprare quando vuoi ma quando vuoi te lo mangia anche durante tutto l'anno si può trovare. Ok. 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 La sera prima della festa ci sono tante persone che non dormono per tutta la notte. Loro aspettano le ore 12 per fare esplodere i petardi. Ogni casa ha proprie petardi di fare esplodere. Ci sono anche alcuni che fanno esplodere gli fuochi d'artificio. Fa esplodere petardi e i fuochi d'artificio durò un bel po' di tempo e l'atmosfera diventa molto animata e io ho aggiunto anche ero murosa. Perché quando si dice animata si ha proprio questa idea. Durante il periodo della festa di primavera nelle città e nei paesi ci sono un bel po' di attività culturali e di ogni tipo. Le presentazioni teatrali e ogni tipo di programma. Nelle strade, nei parchi, nei posti aperti, dappertutto si può vedere una marea di gente. L'anno vecchio se ne va. Tutti desiderano che il nuovo anno li porti cose nuove. Con questo io ho finito la parte trentaquattresima. Ho distribuito il materiale e ci saranno anche altre due parti della stessa lezione. Vi saluto e vi do appuntamento alla prossima. Zai zian!